Musica Benvenuti ragazzi e ben ritrovati qua con DJ Slash Ragazzi oggi dato che siamo l'ultimo giorno del 2015 Doviamo cominciare a festeggiare e fare i buoni propositi Ragazzi oggi vi porterò molti più video del solito Ve ne ho già portati due E ragazzi ce ne saranno altri due Uno è questo ed è la sponsor a un altro canale YouTube Un canale che adesso vi spiegherò meglio perché lo sponsorizzo E poi ragazzi ci sarà un video su Minecraft Ma un video su Minecraft speciale Però ve lo spiegherò più avanti Allora ragazzi questo qua è un canale che si chiama Olivieri92 È un canale che fa video su PC E per adesso ha portato soltanto video di Minecraft Devo dire che i video di Minecraft che fa lui fanno molto ridere Fa anche Cop con altre persone Ha fatto Agarillo Farà anche Contra Strike E farà altri giochi per PC molto interessanti Ci ho parlato con lui anche su Skype Ragazzi questo qua è un canale dove la qualità possiamo dire è media Però la qualità dei video inteso di divertimento e intrattenimento sono molto buoni È un canale in video di sviluppo I video sono buoni Quindi ragazzi diamogli fiducia Il link di questo canale lo trovate in descrizione E ragazzi io ho sponsorizzato anche questo canale Per il semplice motivo che io sto cominciando Una Cop su Minecraft Vanilla online Ragazzi sarò con più persone Sarò con Hacker Gamers93 E Olivieri92 Quindi ragazzi questo qua è una sponsor un pochino più diversa Una sponsor molto più sul personale Cioè molto diretta E vi dico Questi canali qua saranno presenti anche nel mio canale In questo preciso momento Dalla prossima settimana o domani Dovrei cominciare a fare video a manetta Quindi ragazzi Tendo a dire una cosa I video in questione sul mio canale Cambieranno un pochino Perché dovrò mettere delle serie In Possiamo dire in prevalenza E altre serie Dovrò lasciarle un pochino Nel Nel Comodino Cioè metterle in cassetta Lasciarle un attimo là E far scoprire Dare aria fresca A nuove idee Quindi ragazzi Tornando sull'argomento Link del canale In descrizione Ricordatevi Nel mi piace Un commento Di iscrivervi al mio canale Di iscrivervi anche al canale di Olivieri Ci siamo in un prossimo video Da qua è tutto Dice Slash Per essere sponsorizzati Vi ricordo di guardare Il mio video Dove vi spiego Ve lai ragazzi E